Napoli è una città bagnata dal mare, ma è necessario fare in modo che sia bagnata da un mare usufruibile, di cui tutti e tutte possano godere. Slogan come questo, come rispetta l'ambiente e il mare non è una pattumiera, sono stati portati su Lido Mappatella, una delle più famose spiagge libere partenopee dagli attivisti di Europa Verde. Guidati dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, i partecipanti all'iniziativa hanno ribadito la posizione ambientalista del partito, distribuendo gratuitamente a chiunque fosse in spiaggia posaceneri e borracce di alluminio, volti a promuovere il corretto smaltimento dei mozziconi e delle bottigline di plastica che troppo spesso rovinano il paesaggio marittimo. Ma ascoltiamo in merito le parole del consigliere Borrelli. Stamattina Europa Verde, che si presenta alle elezioni politiche della lista Allianza Verdi e la Sinistra, ha fatto quello che fa ogni anno. Ci ha distribuito sulle spiagge, in particolare a Mappatella Beach, per la quale abbiamo lottato tantissimo per farla di nuovo rendere balneabile, delle borracce, dei raccoglitori per le deiezioni canine e dei portacicche. Perché noi vogliamo il nostro territorio pulito, con cittadini che ne usufruiscono al meglio, ma che lo rispettino. E questo deve avvenire ogni sacrosanto giorno. Non si parla del mare, oggi le campagne elettorali non si fanno più in mezzo alla gente, perché molti hanno paura, invece bisogna avere il coraggio di andare tra i cittadini e soprattutto di difendere una delle risorse più preziose che abbiamo, il mare. Un'iniziativa meritevole che, come ogni anno, conquista sia i suoi partecipanti, sia i bagnanti e i cittadini presenti in spiaggia. Siamo qui per ribadire che il mare è di tutti e che Napoli è una città bagnata dal mare, ma che deve avere un mare usufruibile. Per cui speriamo che la prossima stagione si apra con tanti cittadini che abbiano la possibilità di bagnarsi nel proprio mare, il mare della nostra città. Noi continueremo, perché, prima cosa, questo mare è uno spiraglio per tutti i cittadini che non hanno tante possibilità per andare al mare. Napoli è bellissima, dobbiamo cercare in tutti i modi di recuperare quanto più possibile le spiagge per i cittadini, perché la spiaggia, sì, che è stata in qualche modo privatizzata, va bene per chi ha voglia di trovare comodità, però non dobbiamo dimenticare che ci sono tante fasce deboli con famiglie e abbiamo bisogno di proteggere anche questo per loro. Noi comunque combatteremo sempre per avere questo mare pulito e queste spiagge pulite.